Ben trovati, probabilmente da settembre ci sarà un nuovo leader, un nuovo partito politico nel nostro paese. Il nuovo leader potrebbe chiamarsi Silvio Berlusconi, il nuovo partito politico potrebbe denominarsi Forza Italia. No, non siamo tornati nel 1994, è il tipico vizio italiano senza nulla voler addebitare a Berlusconi e agli attivisti di questo futuro e vecchio e passato partito come Forza Italia, ma quello di riproporre le sigle e di avere sempre gli stessi leader. Nel paradosso però Berlusconi è quasi il più giovane di questa seconda repubblica che tenta di giungere alla terza, sì perché è solamente dal 1994 che è presente nel lagone politico. Ci sono tanti esponenti in tutti gli altri partiti, dal centro alla sinistra, dal centro-sinistra alla sinistra estrema che sono nati prima quasi della prima repubblica, ossia sono nati verso la fine della prima repubblica. Ci sono parlamentari che sono da trent'anni presenti alla Camera e al Senato, cioè il rinnovamento in questo Paese non può esistere. Mai posto di lavoro è stato così certo come quello di troppi che continuano a rappresentarci. Per cui nel paradosso, forse Italia potrebbe essere considerata una novità, Silvio Berlusconi anche, perché questo è il nostro Paese e nessuno si pone l'interrogativo di come mai parlano ancora di sinistra Veltroni che ha fatto perdere la sinistra, D'Alema che non ha avuto il coraggio dopo aver buttato a mare Prodi di presentarsi come candidato alla Presidenza del Consiglio. Parlano ancora di politica e di quello che dovrà succedere Pierferdinando Casini, parla ancora di politica, anzi si tenta una dialettica politica attraverso Gianfranco Fini che vorrebbe blindare il patrimonio che era dell'ex Movimento Sociale Italiano e poi divenuto Alleanza Nazionale. No, non parlo della Casa di Monte Carlo, quella è diventata ormai una questione quasi personale. Ecco, la politica non cambia mai, cambiano le ere geografiche, cambiano quindi le situazioni climatiche in ogni parte di ogni continente ma la politica italiana rimane quella che era 30 anni fa. Quindi nel paradosso benvenga il neo leader Berlusconi e la neo Forza Italia, ma perché vuole Forza Italia Berlusconi? Probabilmente questo è un metodo perché non ha detto sarà cancellato il popolo delle libertà, si trasformerà questo. Ha ipotizzato che il PDL possa essere la coalizione, poi ci saranno regioni in cui magari il PDL rimarrà partito e qualcun altro entrerà in questa nuova Forza Italia. L'idea di Berlusconi secondo me è quella di contarsi con il suo partito, perché Forza Italia era Silvio Berlusconi nel 94. Oggi Berlusconi ha la necessità di far vedere che il suo marchio lui stesso vale ancora in questo paese il 10 e il 15%, anche per mettere all'angolo alcuni leader che sono nati grazie a lui, che tentano libertà e autonomia rispetto allo stesso fondatore cavalier Silvio Berlusconi. Credo che Forza Italia possa essere vista come la lista di Berlusconi, il PDL rimarrà in tante regioni come la Puglia, lì dove c'è un unico indiscutibile leader del centrodestra che è fitto per il centrodestra e Silvio Berlusconi avrà questa capacità di rigenerare rigenerare un entusiasmo, tant'è vero che apre ai giovani che vogliono lottare per questo paese e a coloro che si sono distinti nella società, quindi recupera nuovamente la famosa società civile che forse lui stesso però ha parzialmente tradito quando è stato chiamato a governare. Le rivoluzioni liberali non ci sono state, non solo per colpa sua, ma per una corresponsabilità della politica, ma gli unici che sempre pagano rivoluzioni mancate siamo noi che dobbiamo giungere a fine mese. Buon weekend.